La lista degli acquisti di Minadeo e Cappellacci si arricchisce di altri due nomi, quelli dell'attaccante argentino Jonathan Alessandro, ex San Benedettese, che stamane ci ha confermato che a grandi linee l'accordo con il Campobasso è raggiunto. E' quello di Jacopo Sciamanna, esterno mancino alto, classe 90, lo scorso anno in forza al Flaminia Civita Castellana, squadra del girone E della Serie D, rappresentante Civita Castellana, comune della provincia di Viterbo. Sciamanna ha raccolto numeri buoni nella stagione appena chiusa, 12 gol in 29 partite. Riassumiamo attraverso la grafica il pacchetto dei senior acquistati dal Campobasso, che è pronto al 70%. Jonathan Alessandro, proveniente dalla San Benedettese, Orlando Aquino, dal paterno, Manuel Ferrani, dal Pordenone, Filippo Gattari, dal Lamezia, Roberto Palumbo, dal Potenza, Jacopo Sciamanna, dal Flaminia Civita Castellana, confermato Giuseppe Todino. Mentre ci sono da riempire due vuote a centrocampo, laddove abbiamo scritto tre nomi tra i possibili candidati a vestire il rosso-blu, vale a dire Carteri, che darà una risposta al massimo entro giovedì, Baldinini, che appare però distante, e Cuffa, che deve parlare a giorni con Minadeo, vale a dire quando sarà rientrato dall'Argentina, crediamo, entro la fine di questa settimana. Campobasso e Fano, due squadre candidate a lottare per vincere il campionato, sono fortemente interessate a Vincenzo Ricamato dell'Agnone, ma non è così facile portarlo a compimento, anche perché più di una sirena di Lega Pro sta suonando per il talento dell'Olimpia agnonese. All'appello manca, oltre ai centrocampisti, anche un altro attaccante, che sicuramente non sarà un fuori quota, anzi è proprio in quel posto, per ora vacante, che Minadeo intende riservarsi il colpo da 90, quello di cui non si conosce il nome, ma che dovrà essere il nome buono a far fare un ulteriore salto di qualità a un organico che allo stato attuale appare già ben assortito nel comparto senior. A proposito del terzo centrale difensivo, acquisite le sicurezze di Gattari e Ferrani, per i quali abbiamo ricevuto parole di elogio da colleghi giornalisti nelle ultime ore, sembra che la dirigenza sia orientata a ingaggiare un under come valida alternativa in quel ruolo. A proposito di Ferrani, da noi conosciuto ieri, dobbiamo riferire di un infortunio abbastanza serio, subito al ginocchio nel passaggio da Teramo ad Alessandria, che lo ha infastidito per circa un anno e mezzo. Il Campobasso attrezzerà nel volgere di pochi giorni anche il pacchetto under, quello destinato per forza di cose ad essere quantitativamente più corposo. I titolari fuori quota saranno così distribuiti, uno in porta, che dovrebbe essere un classe 97 della Juve Stabia, due in difesa sulle fasce e una mezzala. Almeno queste sembrano essere le intenzioni di Roberto Cappellacci. Nello stesso ex girone delle Molisane, vale a dire quello F, sgomita il Fano, dove pure si vuole cercare la scalata verso i professionisti, conferme per Gucci, Sivilla e Borrelli, ma pure per Lunardini, con l'aggiunta di Chiacchiarelli, che, secondo il tecnico Alessandrini, farà l'interno a destra di centrocampo. Rimarranno Iander Marconi e Sassaroli, mentre sempre a Fano hanno abbandonato l'idea del portiere senior, via Ginestra, dentro il classe 96 Dini, che ha vinto il campionato con il Rimini in Serie D. Pare però che a Fano si voglia provare un campionato di vertice, ma senza troppe risorse finanziarie. Le nozze con i fichi secchi non è che portano sempre bene, ma staremo a vedere. Radiomercato di Serie D parla pure del talento del Riccia Yellow, in procinto il prossimo 13, di fare un provino con il Monopoli. Se verrà ritenuto utile, la società pugliese lo farà certamente partecipare al ritiro precampionato.